Dare il via al nostro laser, questa settimana un laser incontri. Antonio Ria ha incontrato un grande filosofo del nostro tempo, Emanuele Severino. Sentiamo. Laser. Iniziamo un lungo colloquio col filosofo italiano Emanuele Severino che incontriamo nella sua casa di Brescia. Grazie professore per la sua disponibilità e ben trovato. Grazie a lei. L'occasione c'è data dalla pubblicazione di due importanti libri, la sua autobiografia edita da Rizzoli col titolo Il mio ricordo degli eterni e La morte e la terra, pubblicato da Delphi, volume che in qualche modo corona, almeno per ora conclude, la sua pluriennale ricerca filosofica. Prima di proseguire vorrei presentarlo un po' più compiutamente ai nostri ascoltatori. Grande filosofo italiano, dal pensiero complesso e sorprendente, Emanuele Severino è nato a Brescia nel 1929. Laureatosi a Pavia nel 1950 con un altro grande teorico del pensiero italiano, Gustavo Bontadini, scrisse una tesi che già delinea in modo essenziale il campo dei suoi interessi. Titolo Heidegger e la metafisica. Temperamento geniale ottenne la libera docenza in filosofia teoretica nel 1951, a soli 22 anni. Ha iniziato la sua carriera accademica nelle università di Pavia e di Genova e, dopo un periodo di insegnamento come incaricato all'Università Cattolica di Milano, nel 1962, divenne ordinario di filosofia morale presso la stessa università. Ma, a causa del pensiero teoretico che andava elaborando già in quegli anni, Severino venne allontanato dalla Cattolica nel 1969. L'anno successivo venne chiamato presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, dove ha tenuto la Cattedra di Filosofia Teoretica ed è stato direttore del Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze fino al 1989. Professore emerito dell'Università di Venezia, attualmente insegna all'Università San Raffaele di Milano. Accademico dei Lincei, Cavaliere di Gran Croce, Medaglia d'Oro della Repubblica Italiana per i Benemeriti della Cultura, Emanuele Severino ha vinto molti premi. È elgevirista e opinionista del Corriere della Sera e autore di oltre 30 volumi, alcuni dei quali tradotti in varie lingue. La casa editrice Adelphi dedica una collana alle sue opere, fra cui La Struttura Originaria 1958-1982, Essenza del Nichilismo 1972-1981, Destino della Necessità 1980, Oltre il Linguaggio 1982, La Gloria 2001, Oltre Passare 2007. Inoltre, con l'editore Rusconi, nel 1979, ha pubblicato Tecne, le radici della violenza. Con Rizzoli, nel 1993, Declino del capitalismo e nel 1998, Destino della tecnica. Il filosofo Massimo Cacciari ha definito Severino un gigante della filosofia e l'unico filosofo che nel Novecento si possa accostare a Heidegger. Con Emanuele Severino vorremmo accostarci quindi al suo pensiero filosofico, ma anche alla conoscenza delle sue vicende biografiche. Vita e pensiero mirabilmente presentate nella sua autobiografia, dicevamo intitolata Il mio ricordo degli eterni, edita nel 2011 da Rizzoli. In copertina campeggia un suo recente ritratto, un primo piano, professore. Uno sguardo sereno, pacato, anche soddisfatto e consapevole, ma dagli occhi emana un filo di malinconia. Lei è così, professore? E credo proprio di sì, perché credo che quella fotografia mi sia stata fatta non troppo tempo dopo la morte di mia moglie. E quindi credo di portarmelo un po' ancora addosso adesso a questo sguardo, o a questo fondo di sguardo. E veniamo alla sua autobiografia. Innanzitutto ci spiega il titolo Il mio ricordo degli eterni, che in qualche modo dovrebbe fotografare il suo pensiero e la sua vita. Infatti in esso emergono, se non sbaglio, subito due capisaldi del suo pensiero, la memoria e l'eternità. È vero? Sì, perché non si può ricordare il nulla. Non si può ricordare ciò che è diventato nulla. Quindi se c'è ricordo, c'è necessariamente ricordo degli eterni. E quindi bisogna capire perché le cose sono eterne. Perché le cose secondo lei sono eterne? Tiriamo via il secondo me, perché se fosse secondo me sarebbe essenzialmente falso. Si tratterebbe di capire qualcosa che l'intera nostra cultura ha lasciato ai margini. Non perché sia stata incapace di pensare meglio, ma perché era destino che lo lasciassi ai margini. Pensare che le cose escano dal nulla e ritornino nel nulla è pensare che le cose sono nulla. E questa è la follia estrema. Difatti appunto legata alla memoria è il tema del tempo. Tutto eterno lei scrive, ecco, in questo senso, vero? Certo, al contrario di quello che pensa Heidegger, il quale scrive un suo grande libro intitolato Essere Tempo, cioè l'essere è tempo. E invece qui si dice che l'essere non è tempo e non è nel tempo. Leghiamo subito tutto questo al rapporto fra tempo e nichilismo, che è un altro tema forte. Lei scrive, l'essenza del nichilismo è pensare che le cose vengono dal nulla e vi ritornano. Quindi, eternità o nulla? Certo, è quanto accennavo prima dicendo che se si pensa che c'è un tempo in cui le cose sono nulla, si identificano le cose, cioè gli enti, i non nulla, li si identifica al nulla. E se si capisce la follia di questa identificazione, allora la non follia dice tutte le cose sono eterne, tutti gli istanti, tutte le fasi della nostra esperienza sono eterne. Riprendiamo dalla filosofia alla vita, professor Severino, quando e come si è accostato alla filosofia? Ci parli della sua infanzia, della sua giovinezza, dei suoi studi, di questa vocazione alla filosofia? Sì, è un accostamento singolare perché avevo mio fratello, un grande fratello, un gran bel giovane che morì durante l'ultima guerra. Era un cosiddetto volontario degli alpini, ma era anche normalista a Pisa. Io avevo, insomma, nel 40, 11 anni e lui era già normalista a Pisa e veniva a casa e parlava di gentile. Questo è stato il mio primo incontro con questo grande filosofo che noi italiani ancora consideriamo poco, troppo poco. Perché lei forse era portato più, non so, alla poesia, alla letteratura o alla matematico, alla musica. Invece la morte di suo fratello, mi pare, nel 42, lei aveva 13 anni. Ha sentito quasi come, non so, il peso di una successione. Sì, in qualche modo mi ha fatto riflettere sull'importanza della filosofia, anche se avevo un'età in cui ovviamente non potevo capirne la profondità. Platone diceva che bisogna cominciare a studiare la filosofia a 30 anni. Ecco, prima no. E allora, per quel tanto che capivo, avevo anche altri interessi, sì, musica, la matematica, certo. Beh, mia figlia è una matematicessa, mio nipote è un formidabile ingegnere nucleare, quindi un pochino si vede che hanno preso anche questo aspetto da me. Quindi, dicevo proprio, a 13 anni lei ha questa consapevolezza di dire, io devo far continuare a vivere mio fratello attraverso quello che per lui era più importante, la filosofia. Io questo trovo straordinario. Non è che lei alla fine ha scelto la filosofia, quasi come se la filosofia attraverso le circostanze della vita abbia scelto lei. In qualche modo sì, in qualche modo è venuto a trovarmi, perché è singolare questa circostanza di mio fratello. Devo aggiungere che siccome in quegli anni vogli saltare, allora si diceva così, saltare una classe, saltai la prima licea, classico, e andai a lezione di filosofia da un formidabile tomista che era Monsignor Zani, ma straordinario, un uomo che ricordo tra i migliori di quelli che abbia incontrato. E quindi c'è questa seconda componente della filosofia che mi viene incontro, perché ho avuto la fortuna di avere questo insegnamento, che non trovai però presso i gesuiti, nonostante che fossero bravissimi per insegnare matematica e fisica. Quindi già siamo entrati nell'altra domanda che volevo fare attraverso questo ricordo del tomismo, eccetera, eccetera. Ecco, riprendiamo il discorso sul nichilismo e lo poniamo però adesso in rapporto al problema religioso. Ritengo che il nichilismo, lei scrive, nella sua forma più matura e coerente, lascia definitivamente fuori dalla porta il dio della tradizione filosofica e l'immortalità personale. Ecco, come coesiste questa affermazione con la sua educazione religiosa cattolica e con la sua fede cristiana? Più distante da quella educazione e da quella fede non è il nichilismo, perché anzi il cristianesimo è una delle grandi forme del nichilismo. Ciò che è più distante è proprio l'affermazione che ogni istante è eterno, di modo che non c'è un signore sopra un padrone sotto i servi, il mondo finito, caduco e sopra l'eterno, il privilegiato. E' questo che segna la distanza rispetto all'atteggiamento non solo cristiano ma religioso. Poi quindi gli studi, la filosofia, dei buoni maestri e subito da giovane ha iniziato a insegnare l'università cattolica, una brillante carriera. Ecco, come aveva risolto a quel tempo il suo stare tra filosofia, cioè ricerca filosofica libera, e fede? La vicenda si scandisce in questo modo. Il mio primo libro importante, cioè la struttura originaria, segna già la direzione nuova. Ciò che ancora non era venuto alla luce era l'incompatibilità tra quello che dicevo in quel libro e la tradizione filosofica e soprattutto la tradizione teologico cristiana. Ma anche ora tengo fermo quello che in quel libro che scrissi nel 58 quando ero appunto docente della cattolica. E tuttora resta la base del mio discorso. Soltanto che mancava la consapevolezza, allora c'era un atteggiamento conciliativo. Invece poi è venuta fuori la incompatibilità radicale. Torneremo su questo, ma a un certo punto nei suoi studi, nelle sue pubblicazioni, prima ancora penso nella sua vita, lei evidenzia appunto la contraddizione della fede. In quali termini? C'è una sfaccettatura di significati che alludono a questa contraddizione. Uno più accessibile anche per i nostri ascoltatori potrebbe essere questo. La fede si dice nei testi evangelici è argumentum non apparentium, cioè l'argomento delle cose che non appaiono. Per esempio se io dico Cristo è Dio, affermo qualcosa che non appare, che non si manifesta. E la fede è l'argomento in base al quale dico questo. E allora l'aver fede vuol dire trattare come chiarità ciò che non appare. Lei mi chiedeva la contraddizione, eh sì, voglio che tu che invece sei oscuro, tu sia chiaro. Perché in questa volontà c'è la contraddizione che è uno degli aspetti della contraddizione della fede. Ma d'altra parte anche per il cristianesimo quando si è in paradiso non si ha più fede. C'è la presenza di Dio, la fede è sparita. Tutto questo travaglio interiore e filosofico portò poi all'allontanamento dall'insegnamento dell'università cattolica. Ecco, come ha vissuto da filosofo, da uomo, da cristiano cattolico questa vicissitudine della sua vita professionale e umana, professore? Ma con un grande interesse culturale perché si trattò di una vicenda in cui io da parte mia credo di essere stato serio. Ma anche la Chiesa ebbe a godere di questa proprietà, cioè della serietà. Cioè il rapporto fu a livello culturale, non di scontri personali, di inimicizie caratteriali. No, io sono rimasto in ottimi rapporti con le gerarchie con le quali allora ebbi a che fare. Purtroppo alcuni non ci sono più, come il padre Fabro che era definitore del santo ufficio. Quindi non direi che ci sia stato un aspetto che non fosse quello culturale. D'altra parte era inevitabile che essendo quel discorso che andavo conducendo, essendo quel discorso l'affermazione che il cristianesimo e il nichilismo era inevitabile che la Chiesa si comportasse come si è comportata. Però non può nascondere la sofferenza, la delusione. Io ricordo che lei racconta che dopo questa conclusione poi definitiva, tornava in macchina e andava in montagna dove l'aspettava sua moglie. Qua si aveva poi bisogno di essere confortato, quindi una sofferenza c'è stata, c'è. C'erano anche dei rivolti pratici, non tanto per me, perché io avrei potuto continuare a prendere lo stipendio ma senza insegnare. Sennò che, questo ci tengo a dirlo, avevo attorno a me dei giovani che poi sono andati in casa da tutti, una folta schiera di miei allievi che sarebbero rimasti tagliati fuori e in un'età in cui sarebbe stato difficile che potessero guadagnare o trovare ascolto presso altre università. E allora questo sì era un aspetto che mi preoccupava. Ecco, e poi viene spazi subito l'insegnamento all'Università di Venezia con la Carta di Filosofia Teoretica, dove è anche stato direttore dell'Istituto di Filosofia, poi del Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze. Ecco, e oggi insegna all'Università San Raffaele di Milano. Di nuovo, professore, in un'università non statale, espressione della ricerca seppure di punta del mondo cosiddetto cattolico. direi che si era costituita e in qualche modo rimane una facoltà di filosofia di tutto rispetto, così come ovviamente anche la facoltà di medicina. Quindi lei al San Raffaele non ha trovato quelle difficoltà che ha trovato la cattolica, voglio dire? Assolutamente no, ma una liberalità per cui dietro a pressioni vaticane, invece Don Verde ebbe a tenere fermo l'opportunità che io insegnassi a San Raffaele. Abbiamo ascoltato un brano della suite per strumenti a fiato e pianoforte a guise di percussione composta da Emanuele Severino negli anni 1948-49. Ecco, professore, le piace ricordare anche questo suo aspetto, la filosofia poi ha preso il sopravvento, ecco? Ma innanzitutto chiedo scusa agli ascoltatori perché facciamo loro assorbire questa mia musica, che insomma è quello che è, e allora venia. Però la musica è stata importante anche perché per motivi personali, perché per esempio da questa suite scritta per strumenti a fiato, e chi mi ha introdotto all'interesse per gli strumenti a fiato è stato il papà di quella che sarebbe diventata mia moglie, il quale era una colonna del liceo classico di Brescia, si chiamava il professor Mascialino, e nello stesso tempo suonava in orchestra, suonato con Toscanini, lui suonava oboe, fagotto e corno inglese. Allora l'interesse per gli strumenti a fiato è venuto anche da lì. Dicevamo dello scontro con la chiesa di Emanuele Severino, del suo allontanamento dall'insegnamento dall'Università Cattolica di Milano, tutto questo è testimoniato nel libro Il mio scontro con la chiesa, pubblicato con Rizzoli nel 2001. Ecco professore, come rivede, giudica a distanza quelle dolorose vicissitudini? Non le chiamerei dolorose, perché come ho detto prima era inevitabile che la chiesa reagisse come ha reagito, di fronte a un giudizio che credo di avere giustificato nei miei scritti dell'appartenenza, come dicevo, del cristianesimo all'ichilismo. Come accennavo prima, c'è stata da entrambe le parti una notevole serenità nella discussione. Quando andai a Roma, e secondo una procedura, questa è interessante, che fu quella stessa adottata per Galileo, quando andai a Roma, no, l'atmosfera era tra colleghi, insomma, anche dal punto di vista esterno, con offerta di tè e di pasticcini, però si faceva sul serio. Ecco direi no, a parte il rapporto per i miei scolari, che mi stava a cuore, giovani, molto in gamba, e per il resto è stata un'esperienza culturale di enorme interesse. Ecco, lei più volte fa accenno ai suoi scolari, a coloro che sono cresciuti, sono diventati anche abbastanza noti, famosi, Natoli, Galimberti, ecco. Una delle forme, secondo me, che lasciano un segno, è proprio questa fecondità spirituale che avviene attraverso il passaggio ad altri che poi proseguono. Come è stato il suo rapporto con i suoi allievi, che poi sono diventati i suoi scolari e poi hanno preso il suo posto progressivamente? Poi ci sono anche sviluppati in senso scientificamente autonomo e anche dal punto di vista della carriera alcuni sono stati presidi, candidati rettori dell'Università di Venezia. Bontaloro stanno preparando un convegno a Venezia dedicato appunto ai miei iscritti, sono invitati alcuni dei nomi più noti della filosofia italiana e sono loro che in modo estremamente amabile stanno organizzando questo incontro. Salvatore Anatoli è professore ordinario di filosofia teoretica presso l'Università Milano Bicocca ed è anche docente presso l'Università San Raffaele di Milano. È uno degli allievi più noti di Emanuele Severino. A lui chiedo quindi di tracciarci quali sono gli aspetti della ricerca filosofica di Emanuele Severino più fecondi, cioè quelli che si prestano maggiormente ad approfondimenti. Quindi come possiamo definire la fecondità del pensiero di Milano Severino, professor Anatoli? Parlando una volta con Severino, ho detto che la fecondità di Severino è come dire di ribalzo, cioè ci sono degli effetti secondari, perché il modo in cui ho presentato il punto di vista di Severino è un punto di vista deangolante e quindi che cosa gli permette? Gli permette di considerare quello che è ovvio come problematico e quindi da questo punto di vista depone delle evidenze. Però sul piano della cultura è che lui guarda gli eventi da un punto di vista deangolato e quindi li mette costantemente sotto questione e quindi pone interrogazioni di verità. Quindi la posizione di Severino ha una caratteristica di deporre le ovvietà, certamente ha l'effetto di essere deangolato e quindi da questo punto di vista di aprire una controversia. Cioè la posizione di Severino evoca la confutazione, perché immediatamente poi si reagisce. Ci sono dei pensieri anche intelligenti, acuti, descrittivi, che non producono questi effetti di ribalzo. Ma perché per dirla con Severino hanno un tratto comune, cioè sono tutte persuase del divenire. E allora da questo punto di vista non c'è questa deangolazione che evidentemente la grande filosofia l'ha sempre avuta. Quindi le dice che in fondo è una filosofia chiusa. Nel suo contenuto apre la controversia, invece nel suo fondo, nella sua struttura, non è suscettibile di modificazioni, perché essendo una ontologia dell'immobilità, tutto quello che accade non poteva che essere così e non è suscettibile di trasformazione. E quindi appartiene alla manifestazione dell'essere, il destino di ogni apparire. Lui parla di destino, il destino è della necessità. Quindi evidentemente non ci può essere un'apertura orientata alla trasformazione. Anzi diciamo che la filosofia di Severino immobilizza. Lui parla di futuro della filosofia, ma l'unico futuro possibile è che accada un mondo in cui tutto quello che noi viviamo come generazione e corruzione sia vissuto da tutti come apparire e scomparire. Quindi no, professor Natori, lei come altri allievi di un professor Severino non avete potuto partire dalla sua filosofia per aprire nuove orizzonti, per aprire nuove prospettive. C'è stata una storia diversa, noi gruppi di allievi insomma, dove in senso stretto nessuno ha proseguito il punto di vista severiniano. Di dritto, di rovescio, più o meno tutti abbiamo imboccato un'altra strada. Forse solo alcuni hanno cercato di reinterpretare Severino, di dare un spicco a questa dimensione dell'essere come apparire e scomparire. Altri invece hanno preso un percorso tutto orientato al linguaggio della verità. Altri hanno studiato questioni rilevanti rispetto a Hegel, al politico, alla trasformazione degli assetti sociali. Altri, i più ontologi, hanno ripreso il concetto di creazione. Altri hanno cambiato completamente strada, nel senso che si sono messi a parlare di psicanalisi, cioè a parlare d'altro. Anche io ho imbaccato una strada completamente diversa, nel senso che la mia dimensione era una dimensione che prendeva sul serio la trasformabilità del mondo, le dinamiche vitali, esistenziali, il sistema dei valori. La posizione di Severino quindi ha avuto sbocchi eterogenei. Per quanto mi riguarda invece c'è un aspetto che io ho mantenuto di Severino, che mi è rimasto, ed è quello proprio di un pensiero che ti costringe all'argomentazione rigorosa. Quando dicevo che la posizione di Severino è addangolata e chiama la confutazione, allora è un pensiero che ti costringe all'argomentazione, ha una sua forza e quindi ti mette alla prova. E io direi almeno personalmente la filosofia di Severino mi ha educato al rigore e mi ha educato in un modo così forte al rigore che mi ha vaccinato rispetto alle filosofie come moda. Io non ho mai seguito le mode filosofiche perché la mia domanda era sempre un'istanza veritativa, cioè se il discorso regge, se ha buone ragioni. Perché in Severino avevo avuto un'esperienza di uno che ti costringe ad un'argomentazione che sia in piedi rigorosa. Hai acquistato un abito di rigore. Questa è la mia esperienza personale. Torniamo al discorso filosofico e teologico, professor Severino. Al di là delle questioni di opportunità ecclesiastica, lei ha poi in quel contesto affrontato il tema dal punto di vista più teorico nel saggio sul significato della morte di Dio, quindi sul rapporto fra destino della verità e la fede, cercando di superare la contrapposizione per esempio fra ateismo e ateismo, vero? Sì, perché sia quelli che chiamo amici di Dio, sia quelli che chiamo nemici di Dio, hanno in comune quella fede per cui le cose del mondo sono caducche, cioè escono dal nulla e ritornano dal nulla. Quindi è una contrapposizione quella tra amici e nemici di Dio all'interno della stessa anima, hanno lo stesso background. E invece ciò che chiamiamo destino, che bisognerà chiarire il significato di questa parola, ciò che chiamo destino è l'alternativa all'opposizione, cioè mette in questione entrambi i contendenti, cioè sia gli amici sia i nemici di Dio. Quindi è fuori luogo quello che qualcuno dice che il discorso dei miei scritti sia ateismo. No, l'ateismo e il teismo sono vittime entrambi di quella convinzione nichilistica che uccide l'essere. Chiariamo subito il discorso sul destino, professore. La tradizione filosofica, la grande tradizione dai greci a Hegel, usa l'espressione episteme della verità, per indicare la conoscenza incontrovertibile della verità. Allora episteme è una parola costruita sulla preposizione epi e sulla sostantivizzazione steme del verbo istamai, che vuol dire sto. Allora accade che l'episteme è giunta al culmine con Hegel, e Hegel scrive ancora la scienza della logica, la wissenschaft der logik, e scienza è appunto ancora nel senso di episteme, accade, dico che arrivata al culmine, l'episteme è messa radicalmente in questione, mi pare che lei abbia usato prima questa espressione, dalla coerenza estrema del nichilismo. Cioè è inevitabile che data la fede nel diventare altro e quindi nel diventare nulla, è inevitabile che l'episteme della verità tramonti. Allora siccome il discorso presente nei miei scritti o nei cosiddetti miei scritti non intende essere una proposta, una possibilità, un'istanza, un'ipotesi, ma intende indicare la definitività di come stanno le cose, allora ho usato la parola destino che a sua volta è costruita da de e da quella forma sostantivale stino che risale a sua volta dalla radice sta, che sta alla base di quello steme di episteme. Allora è per differenziare lo stare autentico della verità dallo stare che si è lasciato travolgere, che ho lasciato da parte la parola episteme per adottare la parola destino. Per ora ci fermiamo qui, tra l'altro lei nel 1980 con Adelf ha pubblicato il libro Destino della necessità, domani riprenderemo su questo, ringraziamo Emanuele Severino, ringraziamo i nostri ascoltatori e ci ritroviamo domani.